Ciao, sono Giulia Manzetti, ho 24 anni, vengo da Castelfranco e studio Ingegneria. Hai capito le ingegnere di nuova generazione, belle e intelligenti e con tanta voglia di divertirsi. Sono le candidate a partecipare ad uno dei calendari più sexy del territorio. 12 mesi con le bellezze venete, un'iniziativa a scopo benefico ideata da Paolo Brachetto. Ecco le immagini del casting. Stiamo finendo di fare le selezioni perché quest'anno, grande novità per l'anno prossimo, selezioniamo oltre alle 12 ragazze anche i 12 fotografi che immortaleranno ciascuno un mese. Quindi continuano ancora questi casting, ancora per poco perché poi bisogna necessariamente passare alla fase dello shooting, cioè alle foto vere e proprie. Le ragazze devono essere bellezze della porta accanto, ci sono studentesse, lavoratrici, ai vari casting in giro per la regione si sono presentate more, bionde, rosse. Sarà un look personalizzato, stiamo cercando appunto dei partner che vogliono vestire con appunto abiti e accessori ogni foto in base al mese, in base anche al mood del momento, per cui sarà tutta una sorpresa. Giovani desiderose di mettersi in mostra, di giocare con la propria immagine e perché no, di vedersi sul calendario a gennaio piuttosto che ad agosto. Sono una studentessa di progettazione e gestione del turismo culturale qui all'Università di Padova. Ci sono veneziane, trevigiane, padovane e vicentine. Mancano però candidate della zona occidentale della regione. Quindi stiamo cercando ancora una bellezza veronese e una bellunese, si intende città e provincia. Se appunto qualcuno all'ascolto volesse partecipare, le porte nostre sono aperte, anzi vi aspettiamo, anche se siete la prima esperienza. Ho vent'anni e faccio la parrucchiera. Faccio fare la fotomodella, quindi sarebbe un sogno che si realizza, anche per comunque bellezza venete, è un calendario davvero molto importante. I casting continuano anche nei prossimi giorni, per informazioni basta visitare il sito bellezzevenete.com